guardate il capolavoro che sta portando avanti Moby Dick io dicevo ma guarda è quasi finito invece mi diceva no sono al 20-30% 20-30% ma è già bellissimo è già bellissimo mamma mia è l'omaggio che Moby Dick sta facendo a ciò che sta succedendo in Australia quindi per non spegnere le luci sul dolore e la sofferenza di milioni e milioni di animali che muoiono bruciati i vivi io voglio ricordare che Moby Dick è un artista molto conosciuto a livello anche internazionale e molto amato anche da tutte le persone che si occupano di animali e ambiente collabora con tante associazioni animaliste e però voglio ricordare un'opera che hai fatto in difesa degli animali in via d'estinzione sulla facciata esterna del teatro dell'opera di Firenze vorrei mandarla in onda perché è un'immagine bellissima che cos'era esattamente questo lavoro che hai fatto? abbiamo fatto uno spettacolo che era lo specchio magico con Fabio Vacchi io ho rappresentato sei animali in via d'estinzione tra cui il lupo, la caretta caretta la megatta e la rinoceronte proprio per dare attenzione a tutti gli animali un po' più in via d'estinzione o a rischio non la vedo l'immagine ma non ce l'abbiamo? non ce l'abbiamo? arriva, arriva, abbiate un attimo di pazienza quindi un po' il concetto che molte volte le immagini arrivano, hanno un linguaggio internazionale non hanno bisogno, eccolo qua un po' più bisogno di attenzione come per esempio il leopardo nebuloso è estinto la megattera è un animale che... quindi il leopardo nebuloso l'abbiamo rappresentato sull'estrema destra qua sotto è una caretta caretta che purtroppo rimane sempre incagliata nelle reti di pescatori poi c'è un luceronte di Sumatra che anche lui in via d'estinzione ce ne sono pochissimi esemplari il lupo che diciamo riguarda anche noi come Italia è stato impiccato un lupo ucciso pochi giorni fa in Calabria quindi una cosa terrificante e poi? e poi c'è... adesso nella parte non c'entra tutto il disegno ma ho rappresentato un altro animale che è sempre in via d'estinzione che era un altro giaguaro e nella parte non c'entra però ho cercato di dare un po' l'attenzione a tutti gli animali sia del mare che della terra e per questo il tuo nome Moby Dick che non potevi scegliere un nome d'arte migliore allora continua il tuo lavoro che abbiamo detto vorrei dire intanto una cosa dimmi quando ho disegnato questo lavoro sono venuti tutti quanti il team di Sea Shepherd Sea Shepherd è un'altra associazione è un'altra associazione più agguerrite che si batte per i mari e loro hanno partecipato attivamente sia con le proiezioni in interno sia con l'appoggio al 100% che mi hanno appoggiato tutto questo lavoro che ho fatto è durato 5 giorni il capitano della barca avevano provato a trovarmi mentre io lavoravo e sono stati lì tutta la sera con me è stato abbastanza emozionante perché non è così semplice che un capitano viene a trovarti mi sa che dovrai andare tu su una loro imbarcazione ci sei mai stato? è in programma eh non sapevo ma chi ti ferma con un nome come Moby Dick non puoi che andarci sulla barca di Sea Shepherd tantissimi complimenti ci siamo quasi gli ultimi tocchi guardate l'omaggio che Moby Dick sta facendo al koala che oggi giorno più di sempre è diventato simbolo dell'Australia di quello che sta succedendo il dramma che sta coinvolgendo questo paese e milioni di animali che purtroppo muoiono bruciati vivi e poi il koala è proprio il simbolo dell'animale fragile, dolce, buono per eccellenza ci sono dei koala che nascono e muoiono addirittura sulla stessa pianta tutta la vita sullo stesso albero senti Moby, ti chiamo Moby facciamo così visto che il tuo nome d'arte è Moby Dick tu fra l'altro sei anche un vigile del fuoco non ha tempo pieno? di discontinuo di discontinuo è una sorta di volontario? è una sorta di volontario non proprio è un vigile del fuoco che lavora meno ore con fronte a un vigile del fuoco normale comunque lotti con le fiamme è un nemico terribile con fronte a quello che stanno facendo questi vigili del fuoco? no io sono eroi io faccio lavori molto più di ufficio con fronte a loro però sì, faccio il vigile del fuoco però la lotta tu la porti avanti sul campo come vigile del fuoco e la porti avanti come dicevamo prima con le tue opere con i messaggi che comunichi e infatti mi dicevi prima mi diceva Licia io ci tengo tanto a parlare dei santuari che ci sono nel nostro paese di cui si parla pochissimo di che santuari vogliamo parlare? di santuari in Italia ce ne sono molti sono dei spazi dove vengono salvati gli animali in quegli spazi gli animali non vengono visti come merce non è merce non vengono uccisi vengono trattati come animali a essere senzienti e nel Lazio ce ne abbiamo due molto importanti uno è Cabra Libera Tutti che è gestito da Massimo Manni dove ci sono lama tori, mucche e sono tutti animali che sono stati salvati un altro molto importante è Hope che si trova dalle parti di Nevi e anche lì è un santuario dove ospita più di 200 animali tra galline, polli, tacchini e tantissimi animali che vengono trattati come dovrebbe essere trattato una vita e insomma lo diceva anche la nostra ospite prima Roberta che insomma noi conosciamo veramente poco delle mucche le conosciamo soltanto come animali da sfruttamento invece hanno un modo per vivere una sensibilità hanno delle emozioni no Roberta? Sì diciamo che le vacche mi hanno fatto capire forse quello che negli umani non sono riuscita a trovare cioè la massima trasparenza la tantissima sincerità che forse è veramente difficile trovarlo fra noi umani Che bello l'insegnamento degli animali la trasparenza e la sincerità Allora